Per la seconda volta in nove mesi Joel Sartore fa visita all'Italia, imbarca nuove specie in National Geographic Photo Arc, la più grande arca fotografica della biodiversità globale. Tra le 7407 specie totali ritratte in primo piano perché guardino dritto negli occhi chi osserva e lo inducono ad agire per salvare la biodiversità. E così entrano ancora una volta esemplari fotografati alla Parco Natura Viva di Bussolengo. Grazie all'invito di Green Teen Team, la fondazione del principessa Theodora von Liechtenstein, sono salite a bordo dell'arca quattro nuove specie accomunate dalla difficoltà di sopravvivere all'espansione delle attività umane. Tre europee e una africana sono la coppia di cercopitechi barbuti, la salamandra, pezzata il gipeto e la lucertola di vetro.